ciao a tutti e benvenuti a stories in slow italian ciao a tutti oggi rispondiamo a una domanda che ho sempre trovato interessante il momento del mangiare è quasi sacrilego per gli italiani è il momento più importante della giornata ma di cosa parlano gli italiani quando sono a tavola? le conversazioni spaziano su una vasta gamma di argomenti che riflettono la ricchezza della cultura italiana e la varietà delle esperienze umane ecco alcuni dei temi di cui gli italiani spesso parlano mentre condividono un pasto numero 1 la famiglia e le relazioni personali la tavola è un luogo privilegiato per discutere di famiglia e relazioni personali gli italiani amano condividere notizie su parenti lontani raccontare storie divertenti sui propri figli e discutere delle sfide e dei trionfi della vita quotidiana numero 2 la politica è un argomento che non manca mai a tavola gli italiani sono noti per il loro interesse per gli affari pubblici e spesso si scambiano opinioni su questioni politiche locali e nazionali dibattendo su politiche pubbliche, elezioni e altri eventi rilevanti numero 3 lo sport e l'attualità lo sport è un altro tema di conversazione molto popolare gli italiani sono appassionati di calcio ma discutono anche di altri sport come il tennis, la formula 1 e il ciclismo inoltre si discute delle ultime notizie e degli eventi di attualità che catturano l'attenzione del pubblico numero 4 la cultura e l'arte gli italiani sono orgogliosi del loro patrimonio culturale e spesso parlano di arte, letteratura, cinema e musica condividono le proprie esperienze culturali discutono delle ultime mostre d'arte e dei film più recenti e condividono le loro opinioni su libri e opere d'arte numero 5 i viaggi e le esperienze la tavola è anche un luogo in cui gli italiani parlano di viaggi e avventure condividono le loro esperienze di viaggio raccontano storie divertenti su vacanze passate e condividono consigli su destinazioni da visitare e cose da fare in conclusione quando gli italiani si riuniscono a tavola le conversazioni sono animate e variegate dalla famiglia alla politica dallo sport alla cultura ogni momento riflette la passione e l'interesse degli italiani per la vita e il mondo che li circonda la tavola diventa così non solo un luogo per nutrire il corpo ma anche per arricchire l'anima con condivisione e conversazioni significative vi potrà sembrare che gli italiani litighino e discutano perché il tono di voce sarà molto elevato ma non temete è solo un simbolo della loro passione there you go so today's episode is the first of this new method that I want to try where I read the text fully in italian a first time then we go through it a little bit slower with the translation and explanation and then I will read it once again in italian only so hopefully you can try this new challenge and this new method and see what you can understand first by yourself then see it together with me and then once again see what you can understand great so let's look at it a little bit slower and with some translation together ciao a tutti oggi rispondiamo a una domanda che ho sempre trovato interessante il momento del mangiare è quasi sacrilego per gli italiani è il momento più importante della giornata ma di cosa parlano gli italiani quando sono a tavola? so today's episode is about a question that I find very interesting which is what do italiani talk about when they are eating so when they are at the table, a tavola since you know the eating moment is so important it's so sacred for italiani quasi sacrilego, so almost sacred so what do they talk about when they are eating? le conversazioni spaziano su una vasta gamma di argomenti che riflettono la ricchezza della cultura italiana e la varietà delle esperienze umane ecco alcuni dei temi di cui gli italiani spesso parlano mentre condividono un pasto so these conversations they really talk about a lot of topics argomenti, topics that show the richness of the italian culture and the variety of the human experiences so they really talk about all sorts of things and here are some of the themes that are more common when italiani are eating or when they are sharing a meal quando condividono un pasto to share a meal numero uno la famiglia e le relazioni personali so family and the personal relationships la tavola è un luogo privilegiato per discutere di famiglia e relazioni personali gli italiani amano condividere notizie su parenti lontani so Italians love to share news about relatives who live far away or far away relatives parenti remember that parenti is not parents but is relatives in general raccontare storie divertenti sui propri figli so they like to tell funny stories about their own children divertenti, funny e discutere delle sfide e dei trionfi della vita quotidiana so they also like to discuss about the challenges le sfide e i trionfi so what they overcame or what they managed to do in their everyday life numero due la politica è la situazione attuale so a second topic is politic and the current situation so even the current news la politica è un argomento che non manca mai a tavola so politic is a topic that is never missing at the table mancare to miss so it's never missing gli italiani sono noti so they are famous they are well known sono noti per il loro interesse per gli affari pubblici e spesso si scambiano opinioni su questioni politiche locali e nazionali so Italians are famous about their interest for public affairs sugli affari pubblici and very often they exchange opinions about you know any sort of political matter both locals and national dibattendo dibattere is this discussion you have su politiche pubbliche elezioni e altri eventi rilevanti so all sorts again all sorts of public politico event and matters numero tre lo sport e l'attualità so sport and again current news about sport mainly lo sport è un altro tema di conversazione molto popolare gli italiani sono appassionati di calcio so you know it Italians they are obsessed I would say sono ossessionati non appassionati so it's not just a passion but it's an obsession with soccer football however you want to call it so calcio ma discutono anche di altri sport come il tennis la formula 1 e il ciclismo so it's not all about calcio but there is also tennis that's very famous and important and popular in Italy formula 1 of course racing cars and motorbikes and whatever e il ciclismo so cycling inoltre si discute delle ultime notizie so they also discuss about the news e degli eventi di attualità che catturano l'attenzione del pubblico numero 4 la cultura e l'arte so culture and art gli italiani sono orgogliosi del loro patrimonio culturale so Italians are very proud orgoglioso means proud they are proud about their cultural heritage e spesso parlano di arte letteratura cinema e musica so they will very often talk about art literature cinema and music condividono le loro le proprie esperienze culturali discutono delle le ultime mostre d'arte e dei film più recenti e condividono le loro opinioni su libri e opere d'arte so they will share their own experience their own cultural experiences they will discuss about the latest exhibitions or shows le ultime mostre d'arte e dei film più recenti so the most recent movies e condividono le loro opinioni su libri e opere d'arte so they will share their opinions about books and art in general numero 5 i viaggi e le esperienze so travels and experiences la tavola è anche un luogo in cui gli italiani parlano di viaggi avventuri condividono le loro esperienze di viaggio raccontano storie divertenti su vacanze passate e condividono consigli su destinazioni da visitare e cose da fare so in general they will share their own personal experiences about travels or the latest news and they will maybe share tips about travel experiences in conclusione so in conclusion quando gli italiani si riuniscono a tavola so when Italians gather at the table le conversazioni sono animate e variegate so the conversations will be very animated so very lively e variegate so of any kind of topics dalla famiglia alla politica so from family to politics dallo sport alla cultura so from sport to culture ogni argomento riflette la passione e l'interesse degli italiani per la vita e il mondo che li circonda la tavola diventa così non solo un luogo per nutrire il corpo so the table is not just a place where you are let's say feeding your body so nurturing your body ma anche per arricchire l'anima so also to enrich your soul con condivisione e conversazioni significative so with sharing and conversation meaningful conversations significative meaningful vi potrà sembrare che gli italiani litighino e discutano so you might think that italiani are fighting and discussing like angrily perché il tono di voce so because the tone of voice sarà molto elevato it's very high very elevated ma non temete do not fear è solo un simbolo della loro passione this is just the symbol of their passion great so that was the text with a little bit of explanation or translation now I will read it once again in Italian only ciao a tutti oggi rispondiamo a una domanda che ho sempre trovato interessante il momento del mangiare è quasi sacrilego per gli italiani è il momento più importante della giornata ma di cosa parlano gli italiani quando sono a tavola le conversazioni spaziano su una vasta gamma di argomenti che riflettono la ricchezza della cultura italiana e la varietà delle esperienze umane ecco alcuni dei temi di cui gli italiani spesso parlano mentre condividono un pasto la famiglia e le relazioni personali la tavola è un luogo privilegiato per discutere di famiglia e relazioni personali gli italiani amano condividere notizie su parenti lontani raccontare storie divertenti sui propri figli e discutere delle sfide e dei trionfi della vita quotidiana la politica e la situazione attuale la politica è un argomento che non manca mai a tavola gli italiani sono noti per il loro interesse per gli affari pubblici e spesso si scambiano opinioni su questioni politiche locali e nazionali dibattendo su politiche pubbliche elezioni e altri eventi rilevanti lo sport e l'attualità lo sport è un altro tema di conversazione molto popolare gli italiani sono appassionati di calcio ma discutono anche di altri sport come il tennis, la formula 1 e il ciclismo inoltre si discute delle ultime notizie e degli eventi di attualità che catturano l'attenzione del pubblico la cultura e l'arte gli italiani sono orgogliosi del loro patrimonio culturale e spesso parlano di arte, letteratura, cinema e musica condividono le proprie esperienze culturali discutono delle ultime mostre d'arte e dei film più recenti e condividono le loro opinioni su libri e opere d'arte i viaggi e le esperienze la tavola è anche un luogo in cui gli italiani parlano di viaggi e avventure condividono le loro esperienze di viaggio raccontano storie divertenti su vacanze passate e condividono consigli su destinazioni da visitare e cose da fare in conclusione quando gli italiani si riuniscono a tavola le conversazioni sono animate e variegate dalla famiglia alla politica dallo sport alla cultura ogni argomento riflette la passione e l'interesse degli italiani per la vita e il mondo che li circonda la tavola diventa così non solo un luogo per nutrire il corpo ma anche per arricchire l'anima con condivisione e conversazioni significative vi potrà sembrare che gli italiani litighino e discutano perché il tono di voce sarà molto elevato ma non temete è solo un simbolo della loro passione great, that's it thank you for listening as always I hope you enjoyed this episode I found it very interesting so I hope you did too and I hope you liked this new method let me know of course if you liked it more than usual if I should continue like this just let me know your opinion great, see you next time ciao ciao